Il programma operativo nazionale del Ministero dell'Istruzione prevede i Ponscuola per la Puglia. Sono progetti che si avvalgono dei fondi europei. 15 studenti dell'Istituto Marco Polo di Bari hanno trascorso un periodo di tre settimane per una vacanza studio nella città romanica di Augsburg per il progetto Ponscu. Il progetto include la frequenza di un corso di lingua insieme ad attività culturali e sportive organizzate nel pomeriggio e nel fine settimana. Augusta con i suoi 260.000 abitanti è dopo Monaco e Nulimberga la terza città più grande della Baviera. La Fuggerai, costruita dai Fugger, la famiglia più importante della città, è un antico esempio di edilizia sociale dove i cittadini bisognosi di Augsburg trovano alloggio. Tutto oggi è abitata da anziani con reti di minimo. La alte Pinacoteche di Monaco di Baviera è una delle più antiche gallerie del mondo. Il museo custodisce i capolavori della pittura del 300 al 700, tra le altre opere di artisti italiani come Leonardo da Vinci, Giotto e Raffaello. La Pinacoteche de Modernes si presenta come il più grande museo d'arte moderna e contemporanea della Germania. Un'immersione nella storia buia del campo di concentramento di Tachau e poi visita i passaggi cantevoli dell'Algovia, regione geografica della Svevia bavarese. Città pittoresche come Bagnel e Lindau si affacciano sul lago di Costanza. I colori bianco e azzurro del BMW Museum rendono omaggio ai colori ufficiali della Baviera. Tra le attività sportive ci sono state la canoa, il beachvolley ed escursioni varie. Infine seguiamo il re delle favole, Ludovico II, con la visita dei suoi castelli Herrn Chimse, Nürnfenburg e Neuschwanstein. Grazie.